Lo sparracchio del Brexit, 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 Brexit Con tutte le r moscia possibili e immaginabili Oppure avrei potuto atteggiarmi, avrei potuto dire Brexit Così nessuno capiva che avevo la r moscia Poi parlando in italiano avreste tutti quanti capito che sono un Ah, 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 lasciamo stare ragazzi Comunque Brexit, tutti quanti a parlare costantemente di questa cosa Addirittura si sta parlando del fatto che probabilmente Londra diventerà statuto speciale Ragion per cui non abbiate paura Anche perché, da che mondo in mondo si sa, Londra è il motore repulsore di tutta l'Europa Insieme a altre capitali come Berlino, eccetera, eccetera Ragion per cui non abbiate paura assolutamente È stato poco tempo fa pubblicato dal sindaco di Londra un messaggio ben chiaro Ha pubblicato un video dove un sacco di attività commerciali a Londra aprivano le porte Un video suggestivo e bellissimo Più chiaro di così, Londra è aperta È aperta agli stranieri È aperta agli europei È aperta a tutto il mondo Perché tutto il mondo Ha il cuore all'ombra Ragazzi, c'è bisogno ancora di parlare sull'argomento? Ragazzi, c'è bisogno ancora di parlare sull'argomento?